I prodotti che recano la dicitura con farina integrale non sono in realtà prodotti integrali ma alimenti che di base sono fatti con le farine bianche come primo ingrediente, quelle raffinate cioè, ai quali il produttore aggiunge una piccola quantità di farina integrale oppure di crusca e poi enfatizza con una confezione che richiama la farina più scura e integrale. Guardate il motivo e colore di questa confezione per esempio. In altri casi il prodotto presenta come primo ingrediente la farina integrale ma poi non è 100% integrale perché si aggiunge anche la farina bianca e inoltre si aggiungono tanti tipi diversi di zuccheri come in questo esempio per cui i benefici della fibra e di un prodotto integrale sono solo nell'illusione che viene evocata dalla confezione e dalla dicitura in rilievo con farina integrale. Nel corso Foodshop Assistant trovate a disposizione un'analisi accurata della qualità nutrizionale di tutti gli alimenti in commercio per ogni categoria merceologica, farine, uova, olio, caffè, latticini, carni eccetera. Andate sul sito www.cibossero.it per maggiori informazioni sul servizio.